a freccia rossa e ora c'è un alavador nella stazione principale di breccia breccia centro elma cinica alavador il mgb è macro solo un person 1625 kg oh my gosh wow awesome this is the breccia metro station really nice prego 0-0 sta salendo it's going up wow Brescia Centrale Metro Station, El Malavedro El Malavedro, 2008-118, 2 persone nel kg, 6FSASBN 18 Autofocus Ticket Ad anche all'altro Now to the other elevator, the other Elma It's a nice metro station The metro of Brescia So it's an 8-hour-1-7 I filmed that one San Diego Siamo 1-hour-1-7 2-person a kg, 6-ASBM-20 Secondo piano interrato L'ascensore è stato That's it